Quelli che l'epidemia li ha stremati, quelli che il covid li ha chiuso le serrande, quelli che non lavorano più, quelli che fischiano, che protestano, quelli che oggi a Vicenza si sono radunati a Campomarzo per una manifestazione spontanea. Ristoratori, baristi, commercianti, artigiani, titolari di palestre che all'orizzonte non vedono ancora la luce nonostante le riaperture annunciate dal premier Draghi. Draghi ha annunciato un qualcosa che non è sostenibile, non è sostenibile il ristorante all'aperto, il plateattico non ce l'hanno tutti quanti, quindi è sicuramente una presa in giro. Roma è stata assediata questa settimana e sicuramente Draghi ci ha dato il contentino, ma è una presa in giro, non il contentino. Basta, noi siamo stufi, noi chiediamo solo di lavorare, rispettando le distanze, rispettando tutto, ma non chiediamo soldi, chiediamo di lavorare per mantenere le nostre famiglie. Lavorare per vivere, la protesta si consuma così in una manciata di ore di questa domenica pomeriggio. Circa 300 persone, qualcuno prende la parola con un megafono, su un palco improvvisato, gli interventi, le testimonianze, gli sfoghi. È una cosa vergognosa, ci sono delle restrizioni che non hanno alcun senso, è una cosa vergognosa. Tutto avviene sotto agli occhi di una pattuglia dei carabinieri, ma questa è una manifestazione tranquilla, con le mascherine indossate, qualche cartello, qualche famiglia, poi tutti via. Domani è un altro giorno a combattere con il Covid, a combattere per guadagnare un soldo, a combattere per sopravvivere.